Buonasera e bentornati come sempre e come ogni venerdì con la rassegna stampa targata ALIS 7x7 al mio fianco Marcello Di Caterina. Buonasera Marcello. Buonasera Leonora. Lei lo sa che mercoledì 13 dicembre Confitarma ha ratificato la nomina di Guido Grimaldi a Vice Presidente della Confederazione degli Armatori. Ma le vorrei chiedere, questo prelude ad una maggiore sinergia tra ALIS e Confitarma in particolare sul fronte delle normative europee per la transizione energetica? No, ma noi con Confitarma abbiamo sempre avuto un'interlocuzione molto solida nel corso di questi anni. Il nostro Presidente Guido Grimaldi è sempre un armatore, quindi rappresenta al meglio la categoria e chi meglio di lui poteva essere espressione di questa nuova rappresentanza che va semplicemente a rafforzare quello che anche noi in ALIS stiamo facendo. È chiaro che poi le battaglie le continueremo a condividere, tra queste battaglie sicuramente la battaglia legata all'ETS che è una di quelle materie sulla quale stiamo fortemente cercando di dialogare col governo proprio per chiedere un ammorbidimento di tutto il sistema ETS in Europa. A proposito d'Europa, ieri ed oggi a Bruxelles si è tenuto un consiglio che doveva essere decisivo per il futuro dell'Unione, invece nulla di fatto, complice anche a Orban che ha bloccato tutto. E sulla riforma dei patto di stabilità trattative sempre più difficili, dopo il Covid torna in Europa solo matrigna per l'Italia, secondo lei? Orban chiaramente mette forte attenzione sulla questione legata ai finanziamenti all'Ucraina e crea un po' di ostacoli rispetto a quello che è un'Europa che deve essere più forte. Cioè noi dobbiamo puntare ad avere maggiore positività, maggiore rapidità decisionale e queste situazioni invece inneboliscono il sistema europeo e rendono quindi il nostro continente sicuramente meno veloce rispetto a delle logiche di crescita che richiedono un atteggiamento sicuramente di una sburocratizzazione più rapida di quella che invece stiamo vivendo in questi giorni. Quindi lei si augura un'Europa più produttiva da questo punto di vista? Assolutamente sì, sicuramente i temi di Orban che tra l'altro si inseriscono in un contesto elettorale perché non dimentichiamo che tutto questo nasce appunto prima di un periodo elettorale del prossimo anno che sta creando una delle posizioni o meglio il posizionamento di molti partiti rispetto a quello che è il risultato che ciascuno di loro aspetta. Attenzione perché poi le campagne elettorali possono essere vincenti per qualcuno ma possono invece distruggere un progetto che è il progetto sul quale noi tutti europei contiamo di poter puntare. Assolutamente, invece c'è stato un dato positivo proprio sul fronte dell'inflazione. C'è un dato mensile in cala a novembre in Italia di almeno mezzo punto e ieri sul fronte finanziario la BCE per la seconda volta consecutiva non ha alzato i tassi. Stiamo uscendo dalla crisi forse? No, più che stiamo uscendo dalla crisi noi ce l'auguriamo, spieghiamo che la crisi sia alle porte però è evidente che questa è una fase di equilibrio legata sostanzialmente al mantenimento dei prezzi dei prodotti energetici sono quelli che poi determinano in buona sostanza l'aumento dell'inflazione oppure no. Ci auguriamo che questa sia l'apertura, una strada che sia verso quella risoluzione delle crisi anche perché non dimentichiamo che questi aumenti dei tassi che abbiamo avuto fino ad oggi hanno inciso molto sulle famiglie italiane, hanno inciso molto su quello che era l'indebitamento delle famiglie di tutta Europa riteniamo che questo sia dannoso anche perché le stesse famiglie oggi hanno difficoltà a pagare il mutuo di fine mese per esempio. Certamente e veniamo proprio al lavoro in Italia occupati a massimi storici ma una ricerca Manpower diffusa ad inizio settimana certifica che le aziende non riescono a coprire ben il 75 per cento delle nuove posizioni di personale specializzato. Io le chiederei, il fattore umano rischia di essere un nuovo buco nero dei processi di sviluppo? Sì, no, io su questo abbiamo più volte raccontato Manpower è un socio effettivo, si è nel nostro consiglio direttivo sono risultati attendibili purtroppo il problema esiste esiste perché c'è la necessità di formare sempre meglio e di più i nostri giovani fare in modo che abbiano un'introduzione più rapida nel mondo del lavoro noi ricordiamo spesso che la parte della formazione si allontana troppo dalla parte della loro inclusione tutto questo deve avvenire con tempi più rapidi e soprattutto generando meno costi di formazione per le famiglie questi ragazzi spesso terminano i loro studi, sono costretti a fare master sono costretti a fare ulteriori corsi di aggiornamento a fare ulteriori passaggi che purtroppo allungano la filiera dell'inclusione tutto questo probabilmente produce anche questo dato negativo Dunque, secondo lei ci vorrebbe un alleggerimento dei processi di formazione? Assolutamente sì, cioè dobbiamo cercare di stimolare, invogliare i giovani ad entrare con quelli che sono i loro progetti, i loro sogni nel mondo del lavoro rapidamente formandoli poi sui luoghi di lavoro perché questo è fondamentale altrimenti questa forma di desertificazione può solamente crescere meno teoria più pratica Chiudiamo invece dando uno sguardo ad una notizia del rapporto Censys Un solo italiano su quattro leggi giornali in formato cartaceo solo uno su due segue i telegiornali classici mentre l'88% usa internet e lo smartphone buona parte anche per informarsi Ormai quindi la rivoluzione del digitale è in corso o si è conclusa? No, non si è conclusa, la digitalizzazione è in continua evoluzione questo vuol dire che sono cambiate le abitudini, è cambiato il modo di avvicinarsi alla comunicazione come apprendere le notizie tutto questo oggi avviene attraverso degli strumenti elettronici secondo me siamo solo agli inizi sarà sempre di più e sempre ovviamente una continua sempre più veloce, il tutto sarà ancora più veloce rispetto al passato Ma a proposito di internet lei lo sa che tantissimi italiani utilizzano proprio gli smartphone e internet stesso per controllare il meteo, lei lo fa ogni mattina? Io utilizzo uno strumento che è quello della speranza perché siccome vado in scooter tutti i giorni mi alzo, chiudo gli occhi e spero che il tempo sia clemente con me però bisognerebbe utilizzare anche di più gli smartphone per prevederlo, è vero? Assolutamente Allora augurandoci che il tempo sia dei migliori ricordiamo ai nostri telespettatori di seguirci ogni venerdì alle ore 21 su Alessio Channel con 7x7 Buona serata Buonasera a tutti